La Miterlina di Scoppito 2020-2021 presenta lo staff societario qui a Dattutto Calcio. Abbiamo il piacere di avere il primo cittadino di Scoppito, Marco Giusti. Ancora una volta le istituzioni sono vicine allo sport e più in generale al sociale della comunità di Scoppito. Sì, diciamo che la Miterlina costituisce una grandissima risorsa per questo territorio dal punto di vista non solo sportivo ma anche sociale. Io lo dico tutti gli anni, è ormai l'ottavo anno che partecipo alle presentazioni della Miterlina e mi fa estremamente piacere anche perché garantisce la continuità della propria attività su questo territorio, garantisce la possibilità di fare sport a tutti e quindi per noi è una grande soddisfazione. Noi saremo vicini a loro per quanto riguarda quello che ci compete, mettiamo a disposizione un impianto importante e stiamo facendo una convenzione decennale per la gestione di quella struttura. Ecco, proprio circa l'impianto sportivo in questi giorni nella vostra comunità, Tenerbanco, è la creazione del possibile centro di raccolta organico che dovrebbe sorgere proprio in prossimità del campo sportivo. A riguardo, qual è la posizione di Marco Giusti? Io l'ho spiegato più volte, lì si tratta semplicemente di una piattaforma logistica che già esiste, che verrà messa a norma, dove verrà svolta un'attività in piena sicurezza che non pregiudica assolutamente la possibilità di fare sport, anzi va a riqualificare un'area che effettivamente in questo momento è degradata. Quindi nessun problema dal punto di vista ambientale e assolutamente nessun problema nei confronti dell'attività sportiva.